A distanza di due anni torna il Pescara Wine Festival, 18esima edizione in programma sabato 13 novembre nella sala consigliare del comune, in vetrina le eccellenze della nostra regione. Il premio è organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier, col delegato di Pescara Luca Panunzio, ideatore e conduttore del premio, e col presidente dell'AIS regionale Gaudenzio D'Angelo. La manifestazione vanta il patrocinio della presidenza del Consiglio della regione Abruzzo. Parteciperanno 41 cantine abruzzesi, 5 le aziende fuori Abruzzo, Veneto, Piemonte, Toscana e Alto Adige, ma anche un'azienda francese. Il mondo enoico in Abruzzo ha una tradizione fortemente consolidata, però l'Abruzzo è anche una terra di grandi innovatori. Allora sì, l'Abruzzo enoico funziona, abbiamo dei grandi vitigni autoctoni, lavoriamo molto bene in cantina e i mercati internazionali ci danno ragione. Soprattutto in alcuni comparti il settore bio è molto richiesto e noi ci stiamo sempre più avvicinando a questa tendenza. Quali sono i criteri attraverso i quali le aziende saranno premiate? E' la media matematica dei risultati delle guide di settore, a partire dalla nostra, quindi dalla vite, e Gambro Rosso, Espresso e così. Quindi questa media matematica dà questa classifica di produttori. Importantissimo, direi fondamentale, in questo senso il ruolo del sommelier, che è sostanzialmente il comunicatore del vino. Sì, da circa vent'anni a questa parte c'è stata proprio un'evoluzione della figura del sommelier, che prima serviva solamente il vino, adesso invece suggerisce e consiglia l'abbinamento giusto per le pietanze, ma poi anche il dialogo con il cliente per la scelta ottimale. Riuscire ad affermare un'etichetta abruzzese su un mercato internazionale vuol dire far venire voglia di venire vedere questa regione e di vivere un turismo esperienziale. Infatti oggi le cantine sono sempre più ricercate per visite, oltre che per degustazione, alcune sono delle vere e proprie opere d'arte, altre danno rifugio per poter dormire. Possiamo sintetizzare così, Presidente, il vino racconta storie, tradizioni e quindi cultura in senso lato. E proietta una regione verso un futuro di sostenibilità e di transizione ecologica, perché dove c'è un agricoltore che faticosamente tiene in piedi una vigna produttiva vuol dire che c'è una collina che viene manutenuta, che non è oggetto di sesto ideologico, di abbandono, di discariche abusive, di incendi e tuteliamo il nostro territorio.